220 persone possono consentire che la Camera dei Deputati si riunisca in modo straordinario e approvi la Costituzione di una Commissione speciale che entro 30 giorni porti la riforma elettorale in Parlamento. Questo lo può fare anche al Senato grazie all'incastro e all'incrocio tra la Costituzione e i regolamenti parlamentari e fare in modo che comunque, quando si dovesse votare, si possa votare con una legge elettorale nuova e diversa. È quello che chiedono tutti i politici, era successo anche la scorsa legislatura e non ci siamo riusciti, è quello che chiedono la gran parte degli italiani e è quello che noi dobbiamo fare.